Stop al regime di proroga. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato del novembre scorso arriva il via libera anche dal Governo, così le nuove concessioni balneari saranno messe a gara a partire dal 2024. Una questione ormai lunga 15 anni, da quando nel 2006 la Commissione Europea approvò la cosiddetta direttiva Bolkestein, che prevede la liberalizzazione delle concessioni pubbliche, cioè i beni di proprietà statale, come le spiagge. Il testo del decreto legge, in cui il Governo chiede al Parlamento alla delega per riformare le concessioni balneari non è ancora disponibile, ma fonti fanno sapere che le gare per assegnare le concessioni dovranno essere imparziali e favorire la partecipazione delle microimprese e piccole imprese di enti del terzo settore. Le gare però saranno stilate in modo che gli attuali proprietari conservino comunque un certo vantaggio competitivo. Conterà l'esperienza tecnica e professionale già acquisita, comunque tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori e una corsia preferenziale sarà riservata alle persone che nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura hanno utilizzato la concessione come prevalente fonte di reddito. Le nuove regole prevedono anche un numero massimo di concessioni da tenere per ogni singolo concessionario. In Abruzzo le strutture balneari tra mare e laghi sono 423, con i proprietari ancora sul piede di guerra, tant'è che anche nella nostra regione il 28 febbraio dovrebbe tenersi una manifestazione. A difesa degli imprenditori balneari scende in campo anche la politica locale. Faremo una dura battaglia in tutte le sedi istituzionali, dice il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Aspettiamo di leggere il testo dell'emendamento ma la nostra posizione è chiara e mira la tutela di quelle storiche imprese familiari che hanno investito risorse, tempo, vita per contribuire allo sviluppo del nostro Paese.